Ciao a tutti i camici del Seno della Vergine, eccoci qui pronti, guardate quante belle carte ci sono qui sul tavolo, sulla mia scrivania. Siamo pronti per indagare le energie, quindi le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal lunedì 23 domandica 29 maggio 2022. Amici e amiche del Seno della Vergine, vi raccomando, sono energie generali, quindi non possono valere per tutti voi. Per quello mi invito a optare per i miei consulti privati e personalizzati con MediCartomanzia. Vi lascio qui sotto tutto nel box. Informazioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, attivando su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video ed aggiornamenti futuri. Se vi lasciate un like, un commento, un feedback e condividete sui vostri social, Facebook, Instagram, scusate questi video, ok? Benissimo, bando alle ciance, amici e amiche del Seno della Vergine, incominciamo a captare le vostre energie per questa settimana. Vediamo un attimino di scegliere la prima carta. Abbiamo la carta 68, perdona te stesso o gli altri. Andiamo avanti con un'altra carta. Eccola qui, è la carta della guida divina dell'arcangelo Sandalfon. Poi, cari amici del Senore della Vergine, rimettiamo a posto questa, vediamo un'altra carta. Ed è la carta, ne ho spescate due, quindi vado a rimetterle. Deve essere una carta. Abbiamo la carta del diavolo numero 15. Vediamo sfera lavoro, amicizia, finanza, eccetera, eccetera. Vediamo cosa mi vogliono dire queste carte. Abbiamo la carta ricevere un regalo, dono nella sfera generale. E infine, per quanto riguarda l'ambito dell'oracolo di Belline, abbiamo la carta della scoperta. Carta numero 14. Benissimo, mettiamo maggiormente in ordine le vostre carte. Ed eccole qui per voi, cari amici del Senore della Vergine. Allora, sicuramente qui, durante questa settimana, ci sarà proprio un perdono da parte vostra, propria, proprio a voi stessi, perché magari vi siete accorti che non vi siete comportati in maniera, diciamo, troppo corretta nei confronti di una o più persone della vostra vita. Oppure qui, in alcuni casi, può essere proprio un perdono da parte di altre persone. Quindi potrebbe esserci il fatto che perdonerete un'altra persona. Potrebbe essere anche il perdono di un amico, oppure il perdono di un membro della vostra famiglia, oppure anche il perdono del vostro compagno o compagna, marito o moglie. Dipende molto anche dalla situazione, comunque, personale che state vivendo ad oggi. Qui abbiamo la carta 5, che è la guida divina collegata all'arcangelo Sandalfon. E cosa vi dice questa carta? Ricerca di senso nella vita. Considera un approccio alternativo, circondati di maestri e amici saggi. Qui sicuramente potreste anche seguire consigli da parte di amici, ok? Oppure anche di altre persone che vi potrebbero indirizzare nel prendere una decisione piuttosto che un'altra. Sicuramente siete in una fase in cui state ricercando il senso della vita, della vostra vita, il senso anche dei rapporti che creerete o che avete già creato in passato. Qui, in alcuni casi, questa carta della guida divina vi invita a cercare di valutare e di prendere in considerazione una nuova tipologia di approccio. Quindi un approccio alternativo rispetto alle normali, diciamo, attività che state sicuramente portando avanti durante questo periodo. Quindi, se c'è qualcosa che vi si era bloccato anche in ambito, diciamo, burocratico e commerciale, dovete cercare di pensare a un'alternativa valida, ok? Quindi, cambiare professionista del settore, cambiare approccio, cambiare anche modalità comportamentale, ok? Quindi qui, ovviamente, può riguardare questa carta vari settori della vostra vita, ok? Ora, una cosa importante qui con la carta del diavolo è il fatto che dovete dar vita ai vostri istinti, alle vostre pulsioni. Qui, attenzione perché potreste, diciamo, generare delle dipendenze eccessive, o potreste essere già all'attivo i rapporti che vi stanno un po' vincolando, dei rapporti che vi stanno un po' ingabbiando, incatenando. Oppure, qui potrebbero esserci degli attaccamenti, delle dipendenze, soprattutto qualcosa di immateriale o sessuale, quindi una dipendenza fisica, quindi una dipendenza dal sesso, oppure altre dipendenze ai beni immateriali. Quindi, attenzione a non attaccarvi troppo a un qualcosa o a un qualcuno, ma anche perché l'altra persona potrebbe avere, diciamo, dei doppi fini. Potrebbe farvi credere a un qualcosa, ma in realtà è tutt'altro. Quindi, attenzione alle tentazioni, attenzione a quei rapporti morbosi o a quei rapporti di attaccamento eccessivo. Vedete, c'è questa rosa rossa, ma qui abbiamo delle manette. Quindi, è un po' se dall'altra parte ci siano proprio dei gesti un po' morbosi, oppure delle persone che dall'altra parte vogliono condizionarvi o vogliono comunque incatenarvi in una o più situazioni. Quindi, mi raccomando, aprite bene gli occhi, ok? Poi, qui comunque sia nella sfera generale, la carta ricevere un regalo, un dono, ma comunque una carta più che positiva. Potreste ricevere un premio, un regalo proprio in senso fisico, ok? Un oggetto, oppure anche un dono da puntista materiale, quindi anche economico. Potreste ricevere un premio di produzione per quanto riguarda l'ambito lavorativo. In qualcosa che sicuramente vi renderà un po' più sereni, un po' più felici, ok? L'ultima carta, con questo telescopio, questo gufo e questa energia lunare, è una carta molto molto bella. La carta della scoperta, ok? Qui sicuramente dovete far leva sulle vostre doti di, diciamo, chiaroveggenza, sulle vostre percezioni. Qua è una carta molto bella perché vi troverete al posto giusto, cioè nel posto giusto al momento giusto, ok? Quindi qui magari ci saranno degli incontri per i single, degli incontri fortuiti con un'altra persona, ok? Qui potreste anche perdonare una persona del passato, potreste anche chiarire, appunto, delle situazioni grazie alla vostra saggezza, grazie alla vostra intuizione, ma anche grazie alla guida divina. Potrebbe essere una guida divina dall'alto, ma potrebbe essere anche proprio una persona che potrebbe sicuramente darvi dei consigli molto molto utili. Ok? Qualcosa comunque verrà a galla, qualcosa verrà fuori nell'ambito dei rapporti interpersonali. Qui, grazie anche alle vostre intuizioni e alle vostre, diciamo, aspirazioni personali, è possibile scoprire che proprio, magari in ambito lavorativo, che proprio quell'azienda, oppure quella ditta, quella magari che stavate cercando anche da tempo, magari finalmente alla ricerca di nuovo personale. Quindi, mi raccomando, mandate comunque dei curriculum anche in tal senso, ok? Quindi, sicuramente, sono delle belle energie, energie comunque di scoperta, ok? Benissimo cari amici, essendo dalla Vergine, queste le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul Tarahumet. Ciao a tutti e alla prossima!